Ok, alza lì in piedi, allì in piedi. Siedi, buonasera. Ok. Si devono pure toccare? Secondo me sì. Allora. Allora, non è una vera premiera. Non è una vera e propria premiera. È una citazione che per ognuno può ispirare qualcosa anche di diverso. Quali terlibili sofferenze mi è costata e mi costa tuttora questa sede di credere? Che tanto più fortemente si fa sentire nella mia anima, quanto più forti mi appaiono gli argomenti ad essa contrari. Ciononostante il Dio mi manda dall'ora degli istanti in cui mi sento perfettamente sereno. In quegli istanti io scopro di amare e di essere amato dagli altri. E appunto in quegli istanti io ho concepito un simbolo della fede. Un credo in cui tutto per me è chiaro e santo. Questo credo è molto semplice e suona così. Credete che non c'è nulla di più bello, di più profondo, più simpatico, più ragionevole, più virile e più perfetto di Cristo. Anzi, non soltanto non c'è, ma addirittura con geloso amore mi dico che non ci può essere. Non solo, ma arrivo a dire che se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità, e se fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità. Un applauso, eh?